Il 14 dicembre il grande futsal sbarca a Napoli. Italia affronta la Spagna, campione d'Europa e vice campione del mondo per una sfida che sa di leggenda. Italia-Spagna, martedì 14 dicembre alle 20.30 al Pala Barbuto di Napoli, mercoledì 15 alle 18 al Pala Iacazzi di Aversa. Ti aspettiamo, l'ingresso è gratuito, non mancare all'appuntamento con il grande futsal. Grazie a tutti.